Sono nato nel 1435 nel canton Zugo. La guerra faceva parte della quotidianità e la nostra piccola confederazione era cerchiata. Nella battaglia di Morà contro Carlo il Temerario porto duemila soldati da Zurich. La vittoria è stata incondizionata. È merito dei guerrieri del popolo se questa grande vittoria è stata conseguita. Non certo dai nobili. Nel 1483 fu insegnato della carica di borgomastro di Zurigo. Un borgomastro che pensa solo al popolo, non alle proprie tasche. La nobiltà non mi ha mai accettato. Se non eliminiamo Waldman, per la città sarà un vero disastro. Ero isolato. Waldman è un traditore. Eliminiamo Waldman! Dopo un arresto del tutto illegale, nel 1489... Perdono, signore. ...venne giustiziato per decapitazione. Il mio nome? Hans Waldman, condottiero e borgomastro di Zurigo. Gli svizzeri. Prossimamente alla RSI.